Buongiorno cari telespettatori, tra poco sentiremo tutte le ultime dichiarazioni, come si dice, quelle di giornata, soprattutto su una questione, la notizia cioè del dossier dell'intelligence statunitense sui fondi russi a diversi partiti e dirigenti di forze politiche di mezzo mondo. È un tema che sta avvelenando la campagna elettorale, come sapete ieri il presidente del Copazir Adolfo Urso ha detto l'Italia non figura tra i paesi contenuti in quella lista al momento, ha detto. Peraltro Urso si trova negli Stati Uniti, a Washington, ha avuto incontri con il Dipartimento di Stato e ha chiesto che si faccia chiarezza ovviamente sui nomi e sui contenuti di questo dossier. Oggi però c'è il Quotidiano della Repubblica che rilancia, dice, sentendo fonti molto accreditate statunitensi, sostiene che l'Italia invece figura in questo dossier, non poteva essere altrimenti, visto anche in passato i rapporti di alcune forze politiche italiane con il Cremlino. E questo è un tema. Poi c'è il tema, come sapete, di straordinaria e drammatica attualità, verrebbe da dire, del caro Energia con il leader della Lega Salvini che insiste sullo scostamento di bilancio, insomma servono 30 miliardi. Ieri, proprio qui dalla 7, la leader dei Fratelli d'Italia, Giorgio Meloni, ha replicato, insomma ha detto non serve allo scostamento, insomma è pretestuoso, soprattutto ha detto, poi la sentiremo, Salvini a volte è polemico più con me che con gli avversari, con i suoi avversari politici. Insomma c'è già molto da cui partire, poi ci occuperemo anche di altri temi che sono legati però a queste questioni di rimenti. Intanto chiedo al nostro Francesco Giampai, regista, se abbiamo le dichiarazioni delle ultime ore, sono pronte? Allora sentiamole. Esco dal mondo reale, dove abbiamo parlato di tasse, di bollette e mi chiedono della Russia. Questo è, mai chiesto un euro, un rublo, un dinaro, un dollaro, un marco o un franco o un sesterzo? Stiamo parlando di cose molto delicate, noi chiediamo chiarezza, chiediamo che siano fatte chiarezza nelle sedi opportune, e non tramite dichiarazioni estemporanee, perché stiamo parlando di una materia delicatissima. È giusto, in linea di principio è meglio non fare debito, si vive meglio da non indebitare, ma se quel debito ti serve per andare avanti a lavorare, mantenere i clienti, pagare le fatture, incassare e continuare a lavorare, è sopravvivenza. Quindi, anche perché, ripeto, secondo alcune stime, se non metti 30 miliardi adesso, ne metti il triplo a gennaio per pagare disoccupati e cassi integrati. Mi sorprendono alcune dichiarazioni di Salvini e che mi sorprende il fatto che delle volte sembri più polemico con me che con gli avversari. La ragione per la quale il prezzo del gas sta salendo è che la speculazione, cioè dei grandi player che ci sono alla borsa di Amsterdam, decidono, in base al rischio arbitrariamente, di far salire il prezzo del gas. Ora, se noi non fermiamo la speculazione con il tetto o con il disaccoppiamento del costo del gas dal resto dell'energia, 30 miliardi, segnalo, non bastano, ne possono servire 50, 100, 200 e sono soldi con i quali stiamo indebitando ai nostri figli che dovremmo regalare ai grandi speculatori. Io, francamente, diciamo, ci penso prima di fare una cosa del genere. Questo è stato un governo emergenziale, poi c'è un'ubriacatura collettiva sostenuta da tutti i grandi giornali e da MSFedia, per cui questo è diventato l'unico governo possibile da qui a non sappiamo all'eternità della nostra vita democratica. Ma non può essere questa la regola. È stato un governo emergenziale, un governo che, peraltro, è andato a casa perché, intanto, è una situazione di stallo. Chi fa politica serve lui, è un vostro impiegato. E se è un vostro impiegato potrà gestire le cose per voi solo se ha una grandissima esperienza. E il compito di un politico non è guardare la vostra rabbia e ripeterla, ma è cercare di trovare una soluzione alle cause di quella. Allora, ecco, un quadro il più possibile legato, diciamo, alla par condicio, diciamo, almeno delle quattro forze politiche, le due coalizioni e le altre due forze politiche che, appunto, si contendono il voto del 25 settembre. Bentornato all'onorevole Edoardo Rixi, della Lega. Buongiorno. Che è stato, peraltro, già viceministro, allora si chiamava il ministro dei trasporti e delle infrastrutture. Adesso ha cambiato nome nel Conte 1, mi pare, no? Sì. Senta, Rixi, io vado subito al tema, così non ci giriamo intorno. Oggi il sindaco di Milano Sala ha detto i rapporti ambigui, appunto, con la Russia e via dicendo, indeboliscono il centrodestra. Ieri mi pare che Letta abbia detto la Lega almeno rompe il rapporto con Russia Unita, no? Che è il partito di Putin. Allora, Salvini si è sperticato in questi giorni a dire non ho mai chiesto un rublo, non ho mai avuto un rublo. Ma c'è qualcosa che dovete chiarire? O no? Secondo me no. Al netto che probabilmente deve chiarire ancora Letta se qualche soldo passato dal PC tramite le casse russe è rimasto nelle casse del Partito Democratico oppure no. Io non credo che ci siano rapporti opachi, anche perché l'unico accordo che era stato fatto con Russia Unita era ancora della Lega Nord, non della Lega che è un altro soggetto. C'è stato un cambio completo a livello proprio di governance del movimento e da questo punto di vista le nostre posizioni sono sempre state molto chiare anche a livello parlamentare. Vorrei ricordare che ad esempio il tema dell'adesione alla Nato di Finlandia e Svezia il relatore in aula era un deputato della Lega che si chiama Marco Formentini. Per cui credo che si sia andata a creare una situazione devo dire abbastanza surreale. Infatti io sono contento quando usciranno i nomi, così andiamo a verificare. Ecco, scusi, voi siete perché i nomi vengano fuori, no? Ma certo, siamo perché i nomi vengano fuori, però dovrebbero uscire prima i nomi che le insinuazioni. Perché guardi, io ho avuto una vita personale, lei ricordava il fatto che ero viceministro, io mi sono dimesso da viceministro il 30 maggio 2019 dove dopo aver scritto il decreto Genova e risolto il problema che si era verificato col crollo del Pronte Morandi perché avevo un processo in corso e sono stato falcidiato. Dopodiché sono risultati innocenti in secondo grado e in Cassazione. Però sono stato falcidiato per più di due anni. Allora, bisogna smetterle in questo Paese di fare insinuazioni anche a mezzo stampa. Se si hanno le prove, si portano avanti e si tirano fuori nomi e numeri e si vanno a fare gli accertamenti, ma che escano insinuazioni una settimana prima della fine di una campagna elettorale dove non si sa il motivo perché il dossier esce oggi e non è uscito un mese fa, non si sa perché esce il dossier senza i nomi e senza i conti correnti, credo che un po' di correttezza e di trasparenza farebbe bene all'Italia e alla politica. Ma voi querelerete Repubblica? Guardi, noi quereleremo chi, come posso dire, avrà fatto quel passetto in più che è dall'insinuazione alla calugna, perché la legge prevede che alcune cose le puoi querelare, altre no. Ora è evidente che però non è il problema della querela, è il problema di un comportamento, credo che ci debba essere di correttezza, in un momento difficile del Paese, dove finché si discute sulle idee, sulle posizioni o su cose concrete, è legittimo. Nel momento in cui si insinuano situazioni che poi magari si dimostrano infondate, evidentemente vuol dire che non si fa bene il proprio mestiere. Però voglio dire, anche il leader del suo partito non ha mai nascosto le sue simpatie per Putin e per la Russia, no? Una cosa è esprimere in una democrazia delle posizioni, che possono essere di maggioranza e di minoranza, condivisibili o meno, in maniera più o meno appropriata, ma all'interno di una libertà che contraddistingue un Paese democratico da uno non democratico. Un'altra cosa è insinuare che dietro a quelle posizioni ci siano degli interessi economici, privati o di natura politica. Però una domanda successiva gliela posso fare. La Russia sta tentando di inquinare le democrazie? Assolutamente sì, ma mi sembra che la democrazia italiana sia la più inquinata, perché tutti, ogni volta che parla qualcuno del Cremlino, abbiamo metà stampa italiana che va a insinuare che ci sono più o meno situazioni ambigue entro il centro-destra e il centro-sinistra, alcune a me hanno chiesto se riteniamo che il fatto che qualche personaggio politico di centro-sinistra sedesse anche prima del 2014 dentro qualche azienda russa e i contratti di fornitura del gas sono stati fatti dal 2010 al 2014 quando governava il centro-sinistra, se ci sono degli interessi opachi o meno. Non sta a me giudicarlo. Io devo basarmi sui fatti se voglio fare politica in maniera utile per il mio Paese. Allora, bentornato a Marco Furfaro del Partito Democratico. Saluto Flavia Giacobbe, direttrice di Formiche. Buongiorno. Che ci ricorda che è mattina, vista che è tutta vestita di bianco, noi siamo sempre qui in blu con colori scuri. Allora, andiamo in pubblicità, poi riparto da Marco Furfaro, anticipandovi anche che nella parte finale di oggi parleremo con Luigi Sbarra, il segretario generale della Cisla, perché ci sono anche tanti temi che riguardano il sindacato, i sindacati e il sindacato in questo caso alla Cisla. Allora, pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Fondi russi. Allora, Marco Furfaro, insomma, abbiamo sentito, Rixi è stato molto netto, poi, con piacere o non piacere la sua versione. Diciamo, l'ha convinta questa versione o no? No, non mi ha convinto, ma non mi convince molto il nervosismo. Io non lo comprendo, sinceramente, il nervosismo sul fatto che ci sarebbe rillazioni a pochi giorni dal voto, spunto un dossier. Io credo che sia molto semplice. Male non fare, paura non avere, si direbbe. Se nessuno ha preso soldi dal partito di Putin, da quel regime non democratico e non ha nulla da temere, chiediamo tutti che anzi vengano resi pubblici gli atti. Però questo l'ha detto Rixi, anche noi vogliamo che i nomi siano fatti, insomma, ci siano. Possibilmente prima del 25. Prima del 25, per non lasciare ombre, diciamo. Guardi, è stato detto tante cose, innanzitutto persino partendo dal PC, che io non ero forse nemmeno nato quando faceva politica Rixi e parlava del PC. C'è un dato politico, però, che non si può sfuggire. Rixi ha detto una cosa che a me ha colpito molto. Quando lei le ha chiesto ma la Russia sta attettando alla democrazia, alle nostre democrazie, lui ha risposto sì. Ecco, io credo che lì ci sia un dato politico che va anche oltre il dossier. La Lega è un partito che ha un patto politico con Russia Unita. Russia Unita è il partito di Putin. La Lega è il partito che non ha sostenuto in Parlamento Europeo la relazione sulle ingerenze non democratiche della Russia e di altri paesi stranieri sull'Europa. La Lega è un partito che ha avuto il caso Metropolis, Mosca, i contatti con l'ambasciata in cui poi si è smentito o non smentito, alcuni esponenti della Lega vicino a Salvini. Ci sono tante cose opache che è un giudizio politico evidente, in cui non si è mai voluto tirare una riga, una traccia, un solco rispetto a quel regime. Dopodiché c'è un elemento in più che riguarda il dossier. Io da italiano non so se sposta voti o meno, non credo. Non credo nemmeno che riguardi il consenso elettorale, però mi lasci dire da italiano se esiste anche un solo politico, una sola politica, un solo partito che abbia preso un rublo, un euro o un dollaro da un regime non democratico, il tema non è semplicemente che sono arrivati dei soldi da qualcuno che non ci piace, ma il tema significa che c'è qualcuno nella politica italiana che è ricattabile, è ricattabile da una potenza straniera. Già questo sarebbe alto tradimento. Poi il fatto che quella potenza straniera, persino un regime non democratico, che altro che i comunisti, i comunisti li mettono in galera, i dissidenti, i giornalisti, gli omosessuali, cioè in cui la democrazia non esiste, ma è chiaro che io da cittadino italiano voglio saperlo perché chi va a votare le urne domenica prossima credo abbia il diritto di sapere se qualche soldi da gli Stati Uniti sono arrivati. Però c'ho una domanda supplementare da farle, siccome molti hanno tirato in ballo i soldi dell'ex Unione Sovietica al partito comunista italiano dell'epoca eccetera, la mia domanda è se non ci fosse stata la guerra, l'invasione russa dell'Ucraina avrebbe detto la stessa cosa visto che con punti di rapporti ce l'avevano tutti in Occidente. Guardi, ma sta scherzando seriamente, ma noi siamo in un paese in cui una coalizione, il primo partito nei sondaggi, che sicuramente sarà il secondo perché ci arriviamo noi alla fiamma tricolore ancora nel simbolo, il tema riguarda il PC che si è sciolto 30 anni fa, che io manco andavo forse alle medie, alle elementari, ma veramente, guardi, quando Salvini diceva giustamente che l'opposizione quando era nel governo era in difficoltà, tirava fuori sempre lo spettro del fascismo e del comunismo, è esattamente la stessa cosa, ma com'è paragonabile il fatto della Russia di oggi in cui la bandiera è nera rispetto a decenni fa in cui c'erano chiaramente, sì, delle ingerenze anche di quei partiti degli Stati Uniti, sì, non riguarda il mio partito, c'è una storia che riguarda 30 anni fa, cioè oggi siamo semmai esattamente al contrario, se lei va a vedere quei soldi che prende il Partito Democratico è una cosa ridico, noi abbiamo persone in cassa integrazione al lavoro, cioè è un'altra epoca, ma io sono per mettere esattamente la trasparenza dei bilanci e di chi prende soldi da chi, però c'è questo in cui va fatta luce, non hanno fatto nomi, non capisco il nervosismo della destra, non è che hanno fatto nomi dicendo Lega, Fratelli d'Italia, hanno detto che ci sono, in Italia ci sono state anche in Italia delle interferenze, 300 milioni di dollari, io voglio sapere quali sono queste interferenze, dopo di che ci sono degli elementi politici, io non sono mandato in giro con la maglietta di Putin, non ho mai detto meglio un mezzo Putin che due Mattarella, quelli sono elementi politici, se la Russia sta attentando alle nostre democrazie, la Lega deve rispondere del fatto che ha un patto politico in vigore con Russia unita, questo è il tema. Allora, Flavia Giacobbe voglio sapere, adesso ho perduto la replica, voglio sapere, fatemi sentire, Flavia Giacobbe, prima un po' lo accennava Furfaro, ma tutta questa vicenda, al di là di avvelenare la campagna elettorale, influirà o no gli italiani quando andranno poi nei seggi a votare? Allora, prima di tutto gli italiani a mio avviso devono comunque sapere da quale parte stanno i partiti che comunque vanno a votare, questa è una questione di trasparenza ed è giusto, soprattutto in un momento come questo, siamo in guerra, non c'è niente da fare, però mi atterrei un po' ai fatti, noi abbiamo visto questo memo del Dipartimento di Stato americano? No, non l'abbiamo ancora visto, non sappiamo che cosa contiene nei particolari, quindi io ho trovato... Peraltro credo che domani il Copa si riunisce col capo dell'intelligenza Gabrielli anche... Trovo, diciamo che oggi ci siano un po' di speculazioni sui giornali, perché comunque noi nei fatti sappiamo soltanto, e questo lo sappiamo non perché ce lo dicano adesso gli americani, ma lo sapevamo già da prima, che la Russia comunque da una decina da anni ormai finanzia determinati leader o partiti di paesi stranieri. Sappiamo anche che la maggior parte sono in Europa, quindi niente di nuovo, non sono delle novità, e sappiamo che sostanzialmente domani Adolfo Urso, che tra l'altro veniva proprio dagli Stati Uniti, la statuto a Washington di questa vicenda, incontrerà Gabrielli per capire che informazioni aggiuntive ha, ma non sappiamo nient'altro. Noi dobbiamo però chiedere agli americani queste informazioni, cioè quando il governo in questo senso il Copa si devono averle. Tutto incerto, ecco, quindi non trarrei delle conclusioni sbagliate. Sappiamo che un partito filo russo in Italia è presente, è presente in alcuni partiti, è presente in associazioni, in Tintank, in vario modo. Trasversalmente, dici. Certo, quindi c'è ed è presente, non è nessuna novità, lo sappiamo da tempo, ma che sia un qualcosa di influenza illegale, questo non lo possiamo dire, naturalmente, no, io sono garantista, quindi non lo possiamo dire. Possiamo però dire una cosa, possiamo dire che se ci sarà qualche evidenza comunque di reato, è chiaro che se ne occuperanno i tribunali, ma questo è lescito. Di fronte comunque a delle elezioni e di fronte a una guerra, è chiaro che ci vuole un po' di trasparenza da parte dei partiti. La domanda successiva che ti faccio è, in parte lo diceva Rixi, perché adesso viene fuori, a pochi giorni dal voto, la notizia di questo dossier? Non sono, diciamo, magari avessi queste informazioni, magari avessimo queste informazioni diciamo che sarei una persona fortunata, purtroppo ho le informazioni che hanno tutti e quindi so che, cioè, dalle ricostruzioni dei giornali pare che questo dossier fosse, questo memo, fosse pronto da tempo, diciamo che non... Qualcuno fa un'insinuazione oggi, non so se è una riflessione meglio. Ma ne fanno tantissime d'insinuazione. No, 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 la riflessione qual è? Che ovviamente gli 007 americani conoscono perfettamente nomi e cognomi e che questa sia più un avvertimento, forse, a chi si sente già vincitore delle elezioni, come dire, attenzione, sappiamo chi siete e che avete fatto. Io penso che di fronte alla situazione in cui versa in questo momento l'Europa con una guerra, bisogna comunque non essere ambigui da quale parte si sta. Questo penso che sia una questione di trasparenza, è giusto, cioè non ci trovo niente di strano in questo. Allora, se non avete niente di contrario, possiamo archiviare questa cosa per poi parlare dei temi, guardo Rixi, come dice Salvini, che sono quelli sulla carne viva degli italiani, cioè che riguardano il caro energia e il caro gas. Scusi, però, Rixi stava dando una notizia, ha detto che non è vero che il patto tra Lega Nord e Russia Unita... No, ma non siamo Lega Nord, ragazzi, è un altro partito. Ma no, perché il patto era stato firmato da Lega Nord. No. E non è stato rinnovato automaticamente come hanno scritto tutti i giornali. No, perché è un altro soggetto politico. Avete comunicato a Russia Unita che quel patto non c'è più, quindi. Ma certo che non c'è più quel patto. Quindi lo avete comunicato, tutti i giornali hanno scritto che quel patto si è rinnovato automaticamente. Ma scusate, quello che scrivono i giornali in questo paese non è la verità assoluta. No, ma stiamo sul fatto. Ognuno fa quello che ritiene... Stiamo sul fatto. Quindi quel patto tra Lega e Russia Unita non esiste. Allora, io mi sembra, scusa, visto che siamo stati alleati fino a ieri un governo di larga intesa che è nato grazie alla Lega con a capo Draghi e... Purtroppo. Purtroppo siamo stati alleati, questo penso sarei d'accordo. Vabbè, adesso siamo in campagna elettorale. No, si può essere in campagna elettorale, ma sono state fatte alcune cose come si sono prese alcune decisioni a livello internazionale, credo, dall'attuale governo, visto che è ancora in carica e oggi qualcuno va a votare un decreto per cercare di salvare le aziende italiane in difficoltà di aiuti, per posizionare chiaramente l'Italia all'interno. Cosa c'entra con il fatto che avete un rapporto politico con Russia Unita? Se mi fai finire di parlare, il tema vero è che io vorrei andare a vedere le votazioni parlamentari, vedere come hanno votato i vostri alleati come Fratoianni sulla Russia e come ha votato la Lega. Poi andiamo a vedere... Ma Fratoianni non ha un rapporto con Russia Unita, non si è messo la maglietta di Putin. Quello che vuoi, ma è andato tutte le volte a difendere alcune posizioni indifendibili, ma non è vero, signori, è stato rinnovato automaticamente perché non è stata comunicata il dissenso e quindi hanno un rapporto rinnovato. Però posso chiederti una cosa a Rixi? No, ma scusate, io la chiedo proprio in maniera trasparente. Come anche quell'immagine, lì Matteo Salvini è andato a portare degli aiuti di Ucraini, non è andato... Sì, sì, ma io me la ricordo, ma il sindaco di destra nazionalista, come voglia, ricordo la domanda, io seguo il suo ragionamento, ma neanche della mia. Ma se servisse a fugare quelli che i vostri detrattori chiamano ambiguità, potrebbe Salvini andare e dire, signori, con Russia Unita non abbiamo più alcun rapporto, si potrebbe o non si potrebbe fare, seguo il suo ragionamento? Credo assolutamente di sì e credo che sia normale che ci siano, come posso dire, comunicazioni trasparenti. D'altra parte, siamo stati in una maggioranza di governo, abbiamo votato a livello parlamentare... Sì, davvero andiamo oltre, ma non l'ha fatto, scadeva... Ma non è vero, posso fare un passavanti, continuate, ma non l'ha fatto... Sì, ma i fatti sono i fatti, lui ha fermato un accordo il 2017, il 6 marzo 2022 scadeva, doveva essere comunicato che quell'accordo non si rinnovava, non è stato comunicato che si è rinnovato... Quell'accordo è stato fatto da un altro soggetto politico rispetto alla quale... Posso, posso, l'ultima curiosità e poi andiamo a un altro tema, ma questo accordo, diciamo, al di là che è stato firmato da Reganò, che prevede questo gemellaggio? Non so come chiamarlo, magari sbaglio, che prevede? Ma non è un gemellaggio, prevede, semplicemente prendeva dei rapporti, come posso dire, come avevano altre forze politiche nell'Occidente, come ad esempio anche i partiti tedeschi, nei confronti degli imprenditori che andavano in Russia o venivano dalla Russia o avevano rapporti commerciali, così come succede in qualsiasi altra Repubblica occidentale. No, è stata fatta per discutere se c'era la possibilità di avere dei tavoli di confronto. E quel rapporto non è mai andato avanti per l'aumento delle tensioni che ci sono state con la Russia, e quindi sostanzialmente non è di fatto mai stato rinnovato. Ma perché non avete comunicato la rottura, anziché farlo rinnovare allora? Ma non è mai stato rinnovato. Sì, si è rinnovato, lo sa benissimo che è stato rinnovato. Ma non è vero. Non prendiamo in giro gli italiani. Ma non è assolutamente vero. Avete comunicato che quel rapporto non si rinnovava o non fare un piccolo passo avanti? Allora, quello che chiedo è, vogliamo come Paese avere una posizione unitaria contro la Russia oppure no? Oppure voi volete solo speculare per cercare di prendere tre voti in più? No, io non ho rapporti con Putin e con Russia unita. Allora perché c'è un accordo in vigore? Fanno fede le cose che avete detto. Poi ognuno, come dire, si assuma le proprie responsabilità. Voglio chiedere una cosa. C'eravate voi nell'azienda Russia. Fatemi chiedere una cosa a Freda Giacobbe. Ieri, dopo il discorso sullo Stato dell'Unione, vi prego, furfano i rixi, fatemi fare un piccolo passo avanti. Molti dicono, von der Leyen sì era vestita con colori dell'Ucraina, accanto aveva la moglie di Zelensky, ha fatto capire le sanzioni restano, Putin fallirà. Diciamo, questa è l'ora della, ha detto in qualche modo, Ursula von der Leyen, è l'ora della determinazione e non della pacificazione. E questo è il capitolo che riguarda la guerra. Poi sul capitolo di come fronteggiare la crisi, sì, si sta discutendo del tetto al prezzo del gas, poi vedremo, sappiamo che c'è molta difficoltà a realizzarlo, intanto facciamo un po' di austerity contenendo i consumi. Che strategia è questa? Allora, diciamo che, secondo tutti gli interlocutori, gli esperti, l'Europa si sta muovendo molto in ritardo sul dossier dell'energia, si sarebbe dovuta muovere molto prima. Io non credo che c'entri però la von der Leyen, mi è anche piaciuto il tuo discorso, e devo dire la verità che è una buona leader in questo momento di crisi dell'Europa. Il problema è l'egoismo di alcuni paesi, soprattutto dei paesi del nord, che comunque ha bloccato di fatto qualsiasi decisione. Ricordiamo che il presidente del Consiglio, Mario Draghi, è stato il primo in Europa a consigliare di accordarsi sul price cap. Però su questi temi mi pare si possa prendere a maggioranza una decisione qualificata, non all'unanimità, mi pare, d'aver capito. Ma ci sono stati dei veti incrociati che non hanno permesso in realtà di prendere ancora, di adottare questa decisione. Vogliamo dire qualche paese? La Germania nicchia, l'Olanda, la Norvegia. La Norvegia che fornisce la maggiore quantità di gas in questo momento all'Europa? Certo. Vabbè, nel senso, si deve dare una mossa a questa Europa? Assolutamente sì, è chiaro che comunque anche il nostro paese dovrebbe influenzare più possibile questa decisione sul price cap, perché è l'unica decisione, è un conto prendere a livello italiano, è un conto che la prende l'Europa, ha un altro peso, non c'è niente da fare, quindi dobbiamo spingere con le nostre forze in quella direzione. Ricordiamo che comunque, ecco, se non ci sbrighiamo, insomma, l'inverno arriva molto velocemente. Ricordiamo che altri paesi che stanno molto meglio dell'Italia perché hanno meno dipendenza dal gas russo, hanno, diciamo, fonti ad esempio la Francia, nucleari, hanno invitato comunque il governo di Macron a una sobrietà energetica, tutto il paese, con delle misure già che ha adottato di riduzione del consumo. Ecco, insomma, e noi non abbiamo il nucleare, quindi... La domanda finale ti faccio prima della pubblicità, ma questo atteggiamento con i tanti distingue, come dicevi, gli interessi divergenti dell'Europa, e poi rischia che l'Europa, che vedevamo, no? La cattiva Europa prima, poi l'Europa dopo il Covid, che ha aperto il recovery fund, eccetera, di nuovo si ha, come dire, bersaglio delle critiche, ma anche giustificate in questo caso, perché sì, noi soffriamo particolarmente, la Germania soffre particolarmente, anche se abbiamo scoperto che paga meno il gas da Gazprom, ma questo è un altro discorso, e però anche altri paesi soffrono. Ma noi in maniera particolare, nel senso che comunque il nostro paese soffre, ma non da oggi, ecco, soffriva già da anni, insomma, soffre proprio di una mancanza di strategia a livello energetico, quindi insomma ci stiamo svegliando adesso, un po' in ritardo, e dobbiamo tamponare. Allora, in pubblicità, ripartiamo a proposito di gas, a Milano nei giorni scorsi si è involta GazTech, che è la fiera mondiale del settore dell'energia, e abbiamo scoperto anche che molto gas, lo possiamo prendere già, ci sono stati molti contatti, molti accordi, anzi in questo senso, dai paesi africani. Lo vediamo dopo la pubblicità. Quest'uomo che avanza dal freddo e chiude i rubinetti del gas russo mentre un gelo irreale cala sulle nostre città fa di certo paura, ma l'offerta dei paesi africani pronti ad aumentare le forniture è molto più concreta. Dalla Nigeria arriverà più gas naturale liquefatto già entro il prossimo inverno. Non c'è il timore di esaurire le riserve che ammontano a circa 6.000 miliardi di metri cubi e la produzione, grazie alle nuove esplorazioni, è destinata ad aumentare. Un nuovo gasdotto che dalla Nigeria passerà in Algeria e arriverà direttamente in Italia e da lì in Europa è quasi pronto. Le reti vanno solo collegate. Niente panico, dice Christopher Hudson, presidente di Gaztec, la fiera mondiale del settore energetico che si è appena conclusa a Milano. Il settore privato e quello pubblico devono reagire insieme a questa crisi energetica. L'industria del gas ha i mezzi per compensare. L'Europa deve cercare strade nuove, fonti nuove di approvvigionamento. Anche l'Egitto farà la sua parte. Ha firmato un protocollo di intesa insieme con Israele e Unione Europea per cooperare nel trasporto di gas. Un'opportunità per le scoperte future e per quelle già in atto, come i nuovi giacimenti di gas naturale che interessano Cipro, Israele, Egitto e potenzialmente la Grecia. Il Mediterraneo orientale è l'ab ideale verso l'Europa e tra le grandi aziende energetiche, Eni la ritiene la regione chiave per la sicurezza energetica del vecchio continente e non soltanto per l'approvvigionamento di gas ma anche di biometano, bio-GNL e altre nuove fonti rinnovabili. E poi c'è l'attesa decisione sul raddoppio della capacità del TAP, il gasdotto transadriatico tra l'Azerba e Gianna e l'Italia. A inizio 2023 si dovrebbe concludere la fase delle analisi di fattibilità. Spiegano la Transadriatic Pipeline che in pratica se c'è una domanda da parte delle aziende energetiche ed è a lungo termine potrebbero partire con gli accordi e procedere con il progetto. Gettando il cuore oltre l'ostacolo sarà l'idrogeno il nuovo protagonista delle politiche energetiche soprattutto se accompagnato dall'innovazione nei processi produttivi, quell'attesa decarbonizzazione che passa per la volontà e gli investimenti che si spera arrivino e che si sappiano usare. Nel sud Italia qualcosa si muove, Edison e Saipen lavorano al progetto Puglia Green Hydrogen Valley che prevede tre impianti di produzione di idrogeno verde a Brindisi, quello in fase più avanzata di realizzazione e poi a Taranto e a Cerignola. Una volta a regime alimenteranno le industrie presenti sul territorio, data di consegna ancora da definire. Un paio di notizie intanto a proposito di gas in questo momento alla borsa famosa sulla piazza di Amsterdam siamo a 240 euro al megawattora quindi di nuovo in crescita il prezzo del gas. L'ufficio studio di Confcommercio fa sapere che si va verso un peggioramento del quadro ovviamente economico e c'è il rischio di una recessione mite verso fine dell'anno mentre nella prima parte del 2023 entro la prima parte del 2023 dice sempre Confcommercio rischiano di chiudere 120.000 imprese e c'è anche un forte appello così torno da Rixi, dei governatori della Lega perché siano messe in campo subito molte risorse per fronteggiare il caro energia per famiglie e imprese. Allora io le chiedo voi vi candidate legittimamente alla guida del paese se l'Europa non si muove sul tetto del prezzo del gas che faremo? Io torno a dire il problema vero è che tutti ci auguriamo che l'Europa metta giudizio e che imponga anche a quei paesi che oggi stanno speculando perché è giusto quello che dice Giorgia Meloni c'è una crisi in atto anche di speculazione finanziaria è partita prima della guerra prima della guerra non solo sul gas anche sulle altre fonti energetiche siamo arrivati anche al pellet per dire che c'è tutto dentro compresi gli orifidro per bufri il problema al metano ad esempio oggi ha un costo che non è gestibile chi ha il camion a metano perché ha seguito le indicazioni dello Stato oggi è fuori mercato va bene il problema vero è che noi non possiamo dipendere esclusivamente da scelte di altri paesi che molto spesso difendono i loro vantaggi competitivi durante questa crisi quindi comunque lo Stato italiano deve essere in grado di mettere a disposizione del paese 30-40 miliardi di fondi per consentire di stabilizzare per le imprese italiane il costo energetico almeno per 6-8 mesi ma se non cambia il quadro generale serve cioè un panicello caldo voglio dire il tema vero è che se tu stabilizzi per 6-8 mesi il costo e consenti alle imprese di programmare sia gli interventi perché ad esempio uno dei temi che abbiamo che è surreale in questo paese noi abbiamo parlato del fotovoltaico abbiamo aziende che da novembre hanno fatto progetti per coperture di copannoni le sovrintendenze certo e la paesaggistica gli blocca gli interventi e le leggi dello Stato non gli consentano di fare gli interventi allora dobbiamo capire in questo paese e quindi cambiereste la legge sulle sovrintendenze questo assolutamente sì ecco così lo chiediamo questa roba è non può un paese che si trova in questa situazione dipendere dalle sovrintendenze perché una cosa è difendere il Colosseo la Torre di Pisa anche la bellezza paesaggistica un'altra cosa è non consentire di utilizzare le nuove tecnologie per diventare indipendente dal punto di vista energetico chi vuole fare gli investimenti l'altro elemento torna a dire la speculazione finanziaria e gli extra profitti gran parte non avvengono sul territorio nazionale e infatti la tasso sugli extra profitti non ha funzionato dire che quella è la soluzione vuol dire non trovare una soluzione noi dobbiamo capire che o scarichiamo i costi sulle famiglie e sulle imprese oppure lo Stato dà un ombrello protettivo in questo momento per garantire una stabilità dei prezzi non è la soluzione definitiva ne siamo tutti d'accordo ma se ci falliscono 100.000 200.000 imprese durante l'inverno noi ci troveremo deindustrializzati e non riusciremo più a riguantare la crisi ma perché siete contrari voi allo scostamento nella chiave che diceva Rixi le dirò una cosa in più invece lo sai la cosa che a me fa più rabbia è che invece siamo tutti d'accordo cioè siamo tutti d'accordo sul fatto che le famiglie imprese devono arrivare soldi nel portafoglio alle famiglie sulle soluzioni non siete d'accordo no no ma aspetti perché altrimenti diventiamo ipocriti e un po' paraculi me lo lasci dire anche se mattina presto va bene passiamo perché siamo d'accordo sul fatto che debba avere un prezzo finale dell'energia elettrica che arriva al consumatore o alle imprese che debba avere un tetto massimo lo diciamo noi lo dice pure la destra siamo d'accordo sul fatto che ovviamente serve un'armonizzazione persino siamo d'accordo sul fatto che comunque le imprese le famiglie in questo momento vivono una tragedia e un dramma quotidiano e che va messo fine però guardi l'Europa non è che nasce così o il governo noi siamo tutti a evocare delle misure che potevamo fare salvo il fatto che qualcuno ha deciso di mandare a casa un governo che io non amavo guardi questo però è così è da novembre che aumentano le bollezze sono d'accordo se mi fate il primo intanto guardi io potrei venire qua e fare esattamente come Rixi fare per vent'anni quello che dice che l'Europa fa schifo poi non accorgermi che l'Europa è fatta da stati nazionali e che non esiste e poi arrivare a uno studio televisivo e dire ah ma guarda è colpa dell'Europa brutta e cattiva certo e perché è colpa dell'Europa brutta e cattiva perché nell'Europa è colpa nostra che non faccia niente nell'Europa purtroppo qualcuno fa i propri interessi ed esattamente la visione della destra cioè in cui non c'è un'Europa che decida maggioranza che va come un treno che si prende cura della maggioranza delle persone e non del proprio ego nazionale e quindi pensa ai cittadini come è stato con il PNRR i soldi arrivati dall'Europa ma oggi la vostra soluzione qual è? il patto di stabilità la soluzione è molto semplice serve il prezzo al tetto del gas in Europa e però scusi ma io sono in campagna elettorale e non vorrei esserci lo devo dire o no il fatto che in tutti questi servizi non c'era un premier in carica italiana a dire che quel prezzo doveva essere ammesso il tetto e lo doveva dire con forza e non c'è perché l'abbiamo mandata a casa abbia pazienza cioè a lei pare una cosa di ben poco conto che dobbiamo andare tra le persone a spiegare perché c'è questa situazione e la responsabilità dovranno saperle gli italiani o no poi è chiaro che in questo momento serve un qui ed ora io sono molto cauto sullo scostamento di bilancio e rispondo perché penso una cosa intanto non è vero che gli è straprofitti non è stato preso niente oggi leggerà anche delle relazioni parlavamo di 9 miliardi dicevamo uno siamo già a 4 e 5 lo dice l'Europa è un tema molto semplice c'è un tema molto semplice io non voglio correre il rischio un'altra volta di una partita di giro tra poveri cioè è il momento che paghino quelle società energetiche che si stanno arricchendo perché per quelle famiglie e per quelle imprese per quelle famiglie e per quelle imprese che si stanno impoverendo c'è qualcuno che si sta arricchendo le loro ricette sa quale sono sono la flat tax cioè l'idea che chi ha tantissimo paghi pochissimo e che chi ha poco paghi di più le tasse le nostre ricette sono la redistribuzione delle ricchezze cioè chi ha speculato e chi si è arricchito con la speculazione deve mettere nelle tasche delle famiglie delle imprese italiane esattamente un po' di soldi fra giocomio così chiudiamo chiudiamo guardi che negli ultimi tre governi c'era lei c'era lei a fare il governo se permette ma come stai dicendo io ho fatto manco il parlamentare il primo secondo tre governi Draghi Conte Conte c'eravate voi così non perdiamo la visione al governo scusate Fulfero Ricci possiamo dare un'informazione di servizio dove è candidato Fulfero Toscana per il partito democratico in Toscana nella sua Liguria assolutamente sì io non sono candidata per fortuna perché mister elite però posso chiederti una cosa ma c'è tutta questa agitazione nelle come si dice le cancellerie europee se il risultato sarà la vittoria del centrodestra in Italia diciamo che le cancellerie europee sicuramente stavano familiarizzando con una figura sicuramente che ben conoscevano di responsabilità quindi che ha seminato credo bene cioè stiamo parlando comunque di press cap alla fine è la proposta italiana Draghi quindi ecco sono io penso che abbia seminato e che il prossimo presidente del consiglio se non sarà stolto ecco cioè deve proseguire in quel solco dici potrà comunque ecco sì proseguire anche perché la situazione al di là dei giochi di campagna elettorale è molto grave quindi insomma tra inflazione caro bolletto energia la guerra il covid non stiamo vivendo un momento facile c'è una una crisi in arrivo insomma è vero qualunque esso sia dovrà occuparsi di cose dovrà comunque avere a che fare con l'Europa perché noi dipendiamo dall'Europa noi stiamo in Europa non è un pasto gratis e quindi comunque a questo dobbiamo comunque far fronte qualsiasi sarà il presidente del consiglio dovrà comunque avere a che fare con Bruxelles ma questo diciamo mi pare nelle cose Paolo buongiorno non devi essere di una brevità totale perdonami se ti saluto così abbiamo molti temporali da contare in realtà questa mattina allora quelli che sono passati sulle regioni centrali sembravano un po' in anticipo in realtà ce n'è ancora qualcuno sul mare ma guardate gli altri fra l'Alta Toscana e le coste del Veneto c'è un'altra linea di temporali quindi la previsione per la giornata di oggi che vedeva questa linea di forti precipitazioni temporalesche come se fosse già passata in realtà una ne è passata poi c'è quest'altra che si sposterà di nuovo verso il centro il nord est con al confine proprio una zona di fortissimo di fortissimo maltempo sulla sulla Slovenia e c'è anche qualche schiarita al nord e al sud ancora non arriva molto vediamo domani come si sviluppa questa situazione il maltempo arriva anche al sud anche se qualche regione Calabria Sicilia ne vengono un poco risparmiate ancora piogge al centro meno intense di oggi però guardate al nord di nuovo abbiamo una situazione con piogge estese e sul nord est anche molto intense quindi ancora temporali e poi arriviamo alla giornata di sabato in cui sul nord est ma su gran parte del nord con l'esclusione della parte occidentale vedete piogge forti o fortissime sulle coste questo giallo parla di temporali quindi precipitazioni particolarmente abbondanti piogge al centro piogge al sud anche intenso è cominciato l'autunno è cominciato l'autunno l'hai detto senza possibilità di replica grazie a Paolo Sottocorona grazie Danato Rixi grazie Marco Fuffaro grazie a Flavio Giacombe grazie dopo la pubblicità con noi il segretario generale della CISL Luigi Sbarra bentornato Luigi Sbarra il segretario generale della CISL vado subito alle domande perché non abbiamo molto tempo come la vede questa campagna elettorale segretario? ma è una competizione elettorale concentrata secondo noi su questioni distanti dalla vita reale del paese però parlano di tasse di pensioni bandierine elettorali slogan tante illusioni sganciate da una visione e da un disegno complessivo di crescita e di sviluppo del paese vediamo tanto accanimento tra le forze politiche un clima un clima teso con partiti che tendono sempre più a delegittimarsi e a non mettere invece concentrarsi in campo un programma un contenuto che possa assicurare diciamo una prospettiva di crescita e di futuro alla comunità nazionale penso che arriverà il giorno in cui bisognerà concretamente parlare delle vere priorità lavoro coesione investimenti il nuovo governo chiunque vinca di quello dovrà occuparti tante cose ma anche di quello soprattutto di quello senta che cosa contempla l'agenda della CISL che avete presentato l'altro giorno e anche mandato tutte le forze politiche in campo si è un messaggio che abbiamo lanciato alle forze politiche al nuovo governo anche nella prospettiva della nuova legge di stabilità che a novembre che sarà il primo vero impegno del nuovo governo dovrà essere approvata per il prossimo anno tra le nostre priorità c'è il tema del lavoro che va rilanciato sotto il profilo quantitativo qualitativo collegato ad una strategia che faccia leva sul rilancio degli investimenti pubblici e privati e concentrato un'azione forte sul tema delle politiche attive della formazione della crescita delle competenze c'è da attuare e accelerare l'intervento sul piano nazionale di ripresa e resilienza entro dicembre noi dobbiamo concentrarci per realizzare 55 obiettivi condizione per portare a casa la seconda rata semestrale del 2022 e poi bisogna sostenere un cammino vero di riforme da quella fiscale alla riforma delle pensioni a interventi di innovazione nel mercato del lavoro abbiamo presentato 12 idee 12 dossier speriamo che il nuovo governo apra subito un confronto con le forze sociali perché serve tanta corresponsabilità tanta condivisione tanta partecipazione è una fase in cui soprattutto è una fase così difficile però io le chiedo lei giustamente ci racconta queste cose che riguardano il futuro del mondo del mondo e del mercato del lavoro mettiamola così in questo momento qui ci sono aziende che stanno saltando che rischiano di chiudere alcune già hanno fermato la produzione per il caro bollette non parliamo dell'inflazione crescente mi pare che voi abbiate anche voi lanciato un allarme su posti di lavoro a rischio e come si fa? bisogna concentrarsi per governare l'emergenza e poi determinare uno scatto per costruire una visione di medio lungo periodo c'è una tempesta perfetta che si sta avvicinando e che colpirà in modo pesante imprese famiglie lavoratori dipendenti e pensionati noi dobbiamo governare questa escalation dei prezzi dell'energia dell'aumento delle materie prime dei beni alimentari e la ragione per la quale pensiamo questo tema va affrontato in una duplice aspetto intanto serve una svolta in Europa vogliamo un'Europa che costruisca risposte immediate per fronteggiare la crisi energetica vogliamo un vero volto di Europa analogo a quello che abbiamo visto durante la pandemia con il next generation e un'Europa che parla con una voce unica così come sulla guerra ma in attesa che l'Europa faccia questo ammesso che riesca a farlo che facciamo lo scostamento di bilancio come molti chiedono intanto l'Europa deve accelerare la definizione di un tetto massimo al prezzo dell'energia deve concentrarsi su un nuovo recovery che sostenga i paesi membri per una politica energetica comune e deve tassare i profitti delle grandi multinazionali tutto questo deve essere collegato ad una strategia nazionale l'auspicio è che il governo incarica nei prossimi giorni adotti un nuovo decreto per liberare risorse finalizzate a sostenere le imprese energivore e non ma ad aiutare e a costruire sostegni anche per le famiglie lavoratori dipendenti e pensionati che non riescono a pagare le bollette le risorse secondo noi si possono trovare alzando ulteriormente e rendendo esigibili gli extra profitti sulle imprese energetiche da allargare anche alle grandi multinazionali della logistica e dell'economia digitale che anche in tempi di crisi continuano a fare affari d'oro pagando poco o nulla alla collettività italiana vanno redistribuite le entrate tributarie effetto dell'impennata dell'inflazione vanno riutilizzate dotazioni finanziarie deliberate su decreti inattuati e ove necessario bisogna fare anche uno scostamento di bilancio che non può essere non può essere un tabù quando ci sono risorse destinate ad evitare la chiusura di imprese e la perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro noi consideriamo tutto questo debito buono debito buono come dice Draghi senta l'altro giorno Landini ha detto che qualsiasi sarà l'esito elettorale ovviamente in quel caso la CGL rispetterà la decisione degli elettori immagino che il ruolo di un sindacato sia quello di interloquire con chiunque ci sia al governo anche se storicamente nel caso della CGL ovviamente una volta si parava di trasmissione con la sinistra un governo di sinistro di centrosinistra diciamo con un governo di sinistro di centrosinistra è più facile parlare se come sembra non possiamo dare i sondaggi da giorni eccetera però il centrodestra fosse al governo legittimamente al governo ci dovete interloquire ma noi dobbiamo confrontarci dialogare con i governi con tutti i governi senza pregiudizi già successo in passato senza pregiudizi senza ideologie noi viviamo la nostra soggettività politica con grande autonomia per noi contano i contenuti col nuovo governo dovremmo definire spero una intesa che disciplini il dialogo il confronto il metodo e può indicare le vere grandi priorità che bisogna affrontare nei prossimi mesi una cosa che posso chiedere è questa nel programma del centrodestra in generale cosa c'è che a lei è piaciuto dice beh questa è una cosa che anche a noi interessa e c'è una cosa che invece dice no questa è una cosa che è contraria ma intanto vedo che ci sono aperture disponibilità per esempio sul tema della partecipazione di come responsabilizziamo meglio le persone rispetto alle decisioni agli indirizzi alla gestione delle aziende vedo che c'è una disponibilità ad aprire un confronto subito per cambiare il sistema pensionistico e previdenziale discutendo di pensione contributiva di garanzia per i giovani e le donne incentivi alla previdenza complementare strutturalità dell'ape sociale e anche misure di flessibilità in uscita dal mercato del lavoro noi diciamo 62 anni e conquistando il traguardo dei 41 anni di contributi a prescindere dell'età quindi lei dice su questo ci può essere sintonia ci sono tante cose ovviamente ci sono nelle coalizioni aspetti che noi non ci sentiamo di condividere pensa a questo tema della flat tax io sono affezionato ad un modello ad un sistema fiscale che garantisca il principio della progressività del prelievo che è un principio costituzionale noi dobbiamo ridurre le tasse soprattutto a chi è in difficoltà alzare l'azione di contrasto all'evasione fiscale detassare i frutti della contrattazione collettiva su questi contenuti sfideremo il nuovo governo a misurarsi nel merito e sui contenuti senta richiedo un'altra cosa perché anche questa fa parte di programmi di governo di altre forze politiche no? ieri mi pare il Parlamento europeo ha definitivamente approvato la direttiva sul salario minimo adesso è all'esame ma arriverà il via libera dal Consiglio europeo credo entro il mese ovviamente tutto questo non obbliga il nostro paese a fissare questo salario minimo per legge voi anche in passato siete stati sempre critici perché avete detto in Italia mi pare l'80% del mercato di lavoro è coperto dalla contrattazione collettiva e bisognerebbe invece riformare come si chiama la rappresentanza contro anche i tanti contratti pirata però poi chi guadagna delle cifre da miseria allora dice sì e intanto io che faccio come replica? dalla direttiva europea arriva un segnale forte soprattutto a sei paesi dell'Europa tra cui l'Italia credo tra cui l'Italia dove viene incoraggiato lo sforzo per rafforzare stendere consolidare la contrattazione collettiva noi abbiamo un patrimonio in Italia di relazioni industriali e contrattuali che copre quasi il 95% delle attività economiche forse il tema italiano è che abbiamo tanti contratti non pochi contratti dobbiamo realizzare l'obiettivo del salario adeguato dignitoso intensificando la spinta delle relazioni sindacali e contrattuali cioè tra sindacati e datori di lavoro dicele non va imposto per legge questo che sta dicendo noi siamo contro l'intervento legislativo pensiamo che bassi salari molte volte sono riconducibili al fatto che facciamo fatica a rinnovare i contratti collettivi ci sono esempi dove i rinnovi contrattuali non arrivano nonostante siano trascorsi 8 o 10 anni rinnovare i contratti qualificare le relazioni sindacali e poi c'è un'altra via per migliorare retribuzioni salari e stipendi che è quello di tagliare le tasse perché abbiamo un prelievo eccessivamente alto in Italia quindi il salario minimo il salario dignitoso risolviamolo con le armi negoziali e contrattuali e io penso che questa è la prospettiva temo che un intervento legislativo possa dare la stura a molte imprese ad uscire dall'applicazione dei contratti e a schiacciare le retribuzioni verso il basso una volta tanto che l'Europa indica l'Italia come il paese migliore non possiamo andare ad inseguire esperienze peggiori benissimo è stato molto chiaro però tutte queste cose vanno fatte in fretta mettiamola così perché chi guadagna noi siamo pronti voi siete pronti la Cis dice lei ha parlato sia della previdenza prima rapidamente sia adesso di salario minimo ma poi tutte queste risorse ce le avremo perché poi è un problema di soldi anche come lei sa benissimo noi dobbiamo mandare avanti un intervento forte per la crescita è la crescita la nostra salvezza è la crescita che ci può aiutare ad irrobustire ulteriormente la struttura economica produttiva dei servizi tutelare difendere il lavoro e creare nuove solide opportunità occupazionali per giovani e donne attraverso una spinta ed una forte accelerazione del piano nazionale di ripresa e resilienza bisogna alzare l'azione di di contrasto all'evasione fiscale e io penso che le risorse si possono trovare si possono trovare mi dici un'ultima cosa adesso siamo in piena campagna elettorale c'è tutta la questione del dossieno dell'intelligenza americana sui fondi russi ma non è questa la domanda che voglio farle ma i leader politici l'hanno chiamata prima della campagna elettorale prima di preparare i programmi qualcuno ma noi ci siamo sentiti con molti leader negli ultimi mesi vorrei ricordare che noi tre mesi fa abbiamo chiuso il nostro congresso dove erano presenti tutti i leader di partito quasi tutti i ministri del governo io ho mandato in queste ore la nostra agenda sociale quindi sanno con alcuni ci siamo sentiti con altri messaggiati però è giusto che questa fase elettorale venga vissuta in maniera intensiva per parlare agli italiani ma arriverà il tempo per riprendere il cammino e il confronto con le forze politiche e con il nuovo governo e il nuovo Parlamento segretario grazie buon lavoro a Luigi Sbarra segretario generale della CISL noi ci vediamo qui come sempre in perterriti domani stessa ora stesso luogo vi lascio non vedo Mirta ma insomma può darsi che ci sia qualcosa dell'ultima ora ma insomma la ritrovate tra poco dopo la pubblicità alla reggaettira grazie a domani grazie a domani grazie a domani grazie a domani